In questa casa dei nonni nacque Santa Gianna Beretta Molla il 4 ottobre 1922. Visse nella casa sin dai primissimi anni di vita e all'epoca degli studi universitari. Qui Gianna accoglieva le ragazze dell'oratorio, approfondiva il proprio cammino di fede e iniziava la professione di medico. Da qui partì nel 1955 per sposarsi e formare una famiglia nella casa sponsale di Ponte Nuovo, dove morì nel 1962.